Basta che la tieni e fa tutto lei, fai quello che vuoi, e fa tutto lei, ma la fa lei a questo punto, ti do anche questa, non lo so, dopo fai anche un pezzo di video, no nel senso ho capito ma io cosa devo fare, niente, non calpestarla, Sì, possibilmente no, aspetta per chi faccio, se puoi non toccarla, non si vede di niente, siamo tutti, non è facile, va, va, arriva, 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 ma si, dai che abbiamo fatto, manca uno, buona ok prendi in mano quella cosa lì e poi così è già accesa vieni anche più vicino perché è tanto al grand'angolo quindi no problemi dopo da lì poi ti raffronti tutte le foto che vuoi ah poi guardate e poi dai mettiti lì davanti eh sì io non ho mica problema certo dopo le girerà sul gruppo vieni bene vieni bene